Musica Benvenuti a Cise, la straordinaria manifestazione che convoca da tutto il mondo oltre 100 produttori di formaggi e li riunisce in tre giorni fantastici nel centro storico di questa splendida cittadina in provincia di Cuneo. Bra, un momento bellissimo questo per gli amanti della buona tavola, del buon cibo, un momento che abbiamo voluto condividere con voi. Ci guardiamo al servizio e siamo andati anche a visitare oltre ad alcune bancarelle anche alcuni produttori di formaggi davvero straordinari. Come stalle ho proprio i greggi, i mandriai, le vacche, le capre, le pecore o anche gli alpeggi. Quindi in estate i miei persone, i miei uomini vanno su con i miei animali negli alpeggi sia nella zona di Castelmagno, nella zona del Raschera dove si producono le Raschere d'Alpeggio, il Braduro d'Alpeggio, Castelmagno d'Alpeggio riconosciuto due anni fa come presidio e poi in pianura. La latte in autunno, sempre latte crudo, per esempio la losa che rappresenta la pietra di copertura delle case che è impiegata per schiacciare questo formaggio che ha un marchio magnifico con un nodo sopra, di formaggi che ho chiamato testum perché sono duri quando sono stagionati, da quello di pecore e quello di capra, poi l'ho abbinato alle vinacce di nebbiolo da varolo. La nostra azienda agricola è bellissima perché è una bella azienda estesa di tre generazioni che va avanti su questa produzione, sia foraggi, sia latte e parte zootecnica. Da lì, da questa produzione che avevamo di un latte di altissima qualità, abbiamo pensato di fare la trasformazione affidandoci a un casaro di grande conoscenza, sia di lavorazione sia di stagionatura. Mio marito è bravissimo, da lì nasce il bravo agricoltore soprattutto, dove sa accompagnare erba medica al momento giusto della lavorazione, di tagliarla, il mais e tutto quanto fa questa filiera. Dove si va a dare agli animali questo foraggio sano veramente, in collaborazione tra l'altro con l'Università Agraria di Viterbo? Sono orgogliosa perché questo è il mercato più importante a livello mondiale di formaggio, perché vede in concomitanza una presenza di produttori che provengono da 103 paesi, quindi da tutto il mondo, di produttori di alta qualità, molte volte dei produttori piccolissimi, che grazie ad un lavoro sapiente di slow food scova da tutte le parti del mondo e le fa confluire qui, oltre alle nostre fantastiche DOP, a tutti i più importanti formaggi della regione Piemonte in primis e italiani in seconda battuta. L'elemento importante di CIS è che passa attraverso CIS un momento certamente commerciale, un momento certamente espositivo, ma fondamentalmente passa un momento culturale. E quest'anno l'aspetto ambientale è un elemento, l'altro aspetto è il collegamento identitario con il proprio territorio, il sapere esattamente il latte da dove proviene, il valorizzare e l'essere in grado di remunerare di più i produttori di latte, perché solo così abbiamo la possibilità di poter difendere il latte italiano e il latte prodotto dalle nostre montagne.